Si hanno insegnato tutto gli americani, se non c'erano gli americani a quest'ora noi eravamo europei, vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E ci sono tutti gli americani, non prendono mai, vanno. Non c'è popolo più buono degli americani, per loro anche le guerre sono una missione. Non le fanno mica per prendere, ma chi? Per dare. C'è sempre un premio per chi perde la guerra. Quasi quasi conviene. Congratulazioni, lei ha perso ancora. E giù un camion di caffè, prestiti, aiuti, vasi. A loro gli basta regalare. Una volta gli invasori si prendevano tutto del popolo vento. Donne, famigione, scienza, cultura. Loro no, non sono capaci. Uno vince la guerra, conquista l'Europa, trova lì, non so, una lampada Liberty. Bellina, eh? Che fa? Il saccheggio ha messo, la fa sua. No! Civilizzano loro. È una passione. E te ne mettono lì una al quarto. Pah! Tutto bianco. E l'Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiughi, le sue tradizioni, i violini, i waltzer. E poi luci e nero, e vita e colori, e poi ponti, autostrade, grattacieli, aeree. Chewingham. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night Extranging monsters Quando la cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di difidare della nostra cultura vecchia, elaborata, contorno. Ma certo, più semplicità, più immediatezza. Non c'è popolo più creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lì un film. Bello, eh? Ma guai, se manca un po' di superficialità. Sotto sotto c'è sempre il western. Anche nel Vietnam riescono a mettersi cowboys. E questa è libertà. A me l'America non mi fa niente bene, non so. È troppa libertà, eh sì. Sia che glielo dica il dottore. A me l'America mi fa venire voglia di un dittatore. Sì, di un dittatore. Almeno si vede. Si riconosce. Non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene da lì dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti. Come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà. Grazie.